Ciao a tutti, vediamo in questo video le regole per sviluppare una personalità magnetica. In questo video voglio spiegarti quali sono le regole che devi adottare, che devi utilizzare per sviluppare una personalità magnetica, una personalità seduttiva. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai ricevere delle risposte precise e mirate alle tue domande. E adesso veniamo al tema, le regole per sviluppare una personalità magnetica. Allora, quali sono le regole per avere una personalità magnetica, cioè una personalità di sviluppare fascino? Beh, in generale diciamo puoi sviluppare il potere magnetico pensando, agendo e immaginando di essere più magnetica, più seducente, più coinvolgente, automaticamente diciamo tenderai a manifestare queste caratteristiche. Noi sviluppiamo quello che siamo, siamo molto adattabili a quello che pensiamo. Che una personalità vincente ha qualcosa dentro che crede, che gli fa credere di essere vincente, altrimenti non lo sarebbe. Questo è un dato di fatto fondamentale. Non puoi, diciamo, diventare una personalità magnetica se non credi di poterlo essere. Quindi la regola numero uno è credi in te stessa o credi in te stesso. Se pensi di essere una persona sfigata, di essere sfortunata, che l'universo ce l'abbia con te, di essere incapace, di non essere in grado di conquistare, di non essere in grado di sedurre, realizzerai tutto questo. Purtroppo o per fortuna noi funzioniamo in questo modo. Il nostro inconscio ci propone quello che noi andiamo a, diciamo, a pensare, a pensare profondamente. E allora dobbiamo imparare a fare delle affermazioni. Io sono la persona più importante del mondo. Io ce la faccio. Io ottengo quello che desidero. Ecco, questa è la prima regola fondamentale. Se vogliamo essere seduttivi, se vogliamo essere magnetici, se vogliamo essere coinvolgenti, dobbiamo in prima istanza credere di esserlo. La regola numero due è di agire con fiducia, coraggio e sicurezza. Cioè non basta credere una cosa, dobbiamo credere e pensare, ma poi dobbiamo decidere e agire successivamente. Questo è fondamentale. La decisione e l'azione sono fondamentali per poter ottenere. Certo, tutto parte da un pensiero, ma oltre al pensiero dobbiamo anche decidere, dobbiamo anche agire, dobbiamo anche fare. Questo è un'altra regola fondamentale della vita di relazione in generale. La regola tre è che devi allenarti. Cioè noi non possiamo sviluppare forza, magnetismo se non ci alleniamo. Cioè abbiamo un corpo fisico, dobbiamo sperimentare, dobbiamo agire e più agiamo, più otterremo risultati, meno agiamo, meno otterremo risultati. L'azione è fondamentale. Se ogni giorno cerchiamo di fare un'azione che va in una direzione, beh, riusciremo rapidamente a raggiungere dei risultati che neanche la nostra più febbre d'immaginazione poteva immaginare di raggiungere. Un'altra cosa, questa, veramente importante, veramente fondamentale. E quindi cerca di metterci tutta l'energia possibile, tutto l'impegno possibile. Dobbiamo accettare i cambiamenti, accettare che le cose possano trasformarsi, non dobbiamo rimanere bloccati nei nostri blocchi. E poi c'è la regola quattro. La regola quattro che è fondamentale è dobbiamo, diciamo, governare i nostri pensieri, evitare pensieri negativi o, se ci sono, esserne consapevoli e mettere subito l'antidoto. L'antidoto è un pensiero negativo e ovviamente il suo pensiero diametralmente opposto, il pensiero positivo. Molto importante anche questo. E la regola cinque è essere grati all'universo. La gratitudine è fondamentale e di fondamentale importanza. Regola sei, sviluppa l'intelligenza. L'intelligenza è la capacità di adattarsi all'ambiente. Noi dobbiamo imparare ad adattarci all'ambiente, imparare ad essere, diciamo, intelligenti. Quindi sfruttare l'ambiente nel modo migliore. Questa è un'altra cosa molto, molto importante. Dobbiamo imparare veramente a sfruttare l'ambiente, a far sì che l'ambiente sia al nostro servizio e non viceversa. E poi abbiamo la regola sette, è quella di imparare a comunicare. Comunicare con gli altri è fondamentale. Regola otto, dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni. Anche questo è un qualcosa di molto importante. Se non impariamo a gestire le emozioni, non riusciremo a tenere nessun risultato. Regola nove, imparare a gestire la comunicazione non verbale. Soprattutto lo sguardo, allenare lo sguardo magnetico, guardare una persona negli occhi, avere la forza di osservare e di manifestare il nostro magnetismo anche attraverso lo sguardo, attraverso il coinvolgimento. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai partecipare ad apposite live mirate dove darò delle risposte alle tue domande. Ciao a tutti!